Grazie Presidente, colleghi, anche oggi di nuovo ci troviamo davanti alla pavidità di parte del Parlamento, davanti a un largo accordo che rovina completamente il nostro Paese, accordo che è basato sul ricatto, un ricatto che serve a garantire la stabilità a questo Governo che è decisamente scarso. Dopo tre giorni di discussioni, di riunioni, di speranze, ci troviamo davanti ad un ricatto parlamentare che ha partorito l'ennesimo progetto che, ripeto, affossa il nostro Paese. Dopo anni che con fatica i comitati e i cittadini reperiscono informazioni per mostrare come questo programma sia assolutamente fallimentare, ci troviamo dal loro portavoce a poter fermare concretamente una spesa che è folle per tutti. È folle per il PDL. Il Presidente Berlusconi disse con precisione «Bisogna assolutamente rivedere le spese militari degli F-35, io ci farei degli aerei da turismo». È folle per il PD. Bersani disse che «La nostra priorità non sono i caccia, la nostra priorità è il lavoro». Con quale coraggio risponderete ai cittadini quando questo Governo ci presenterà il conto dei tagli ai servizi, alla sanità, al trasporto locale, a quegli investimenti che porterebbero l'Italia ad un percorso di sviluppo diverso, ad un futuro non più basato sull'incremento del PIL grazie a strumenti di morte? Cosa gli diremo? Che abbiamo speso 15 miliardi per mille posti di lavoro? Ieri non avevamo nemmeno i Canadair per spengere 400 ettari di bosco incendiati in Sardegna. Vogliamo usare, come suggerisce un nostro collega deputato, questi strumenti multiruolo anche per questo? Ci potete raccontare che servono per il pattugliamento, ci potete raccontare che sono propedeutici ai programmi di smart defense della Nato, ci serviranno per difendere, come facciamo già l'Islanda, la Lituania e la Slovenia, come facciamo adesso? Forse ci serviranno, come ci dice il Ministro, per difendere le basi americane e le nuove strumentazioni USA come il MUOS. E' questa la risposta che volete dare per attuare l'articolo 1152 della Costituzione. Ci potete raccontare di tutto, ma non ci potete dire che servono per portare la pace. I cacciabombardieri, come ci ha illustrato oggi il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, servono non solo per fermare la freccia, ma anche e soprattutto l'arciere. Mi dispiace, Presidenze, anzi, mi scusi, ne sono fiero, ma il nostro gruppo non è intenzionato ad avallare tanta mancanza di coraggio, tanta incapacità di saper prendere una decisione forte, diversa dal percorso che ci ha portato in questi anni qui in Parlamento. La mozione Speranza Brunetta non sospende un bel niente, rifiutandovi di votare la nostra mozione che, insieme ai parlamentari di SEL e anche ad alcuni di voi del PD, abbiamo presentato di fatto voi accelerate l'acquisto degli F-35, come dimostrato infatti anche dai recenti ordini fatti al Governo degli Stati Uniti e alla Lockheed per l'acquisto di ulteriori sette cacce ad assommarsi ai già tre acquistati. Concludo volendo attualizzare un aforisma di John Lennon. Combattere per la pace con le armi è come pagare una minorenne perché non si prostituisca. Grazie. Grazie.